Circa 150 famiglie che oggi vivono dentro baracche con tetto in Eternit potrebbero presto entrare negli appartamenti che il Comune intende acquistare dai privati con i soldi della Regione. Gli 11 milioni di euro che l'assessore regionale ai lavori pubblici Nino Bartolotta ha simbolicamente portato a Messina ieri mattina saranno destinati all'emergenza abitativa di fondo fucile. Il sindaco Renato a Corinti e l'assessore al risanamento Sergio De Cola hanno tracciato le linee guida di un percorso che esclude l'attesa per l'edificazione di altre palazzine da assegnare, sistema che negli anni ha prodotto ritardi ed anche una serie di incompiute. L'obiettivo dunque è comprare gli appartamenti già esistenti, consegnarli alle famiglie ed abbattere una delle vergogne del nostro territorio. Nei piani dell'aggiunta a Corinti al posto delle baracche di cemento ed Eternit dovrebbe nascere uno spazio di verde attrezzato. Sarebbe la svolta che si attende per un luogo fortemente degradato e dal centro di un dossier preparato dall'ex assessore al risanamento Pietro Curro che documentava i rischi derivanti dalla presenza di Eternit da anni nelle disponibilità delle istituzioni. Si spera adesso che il Comune non rallenti a causa della burocrazia così come è accaduto già in passato. L'idea di acquistare alloggi già realizzati da destinarsi all'emergenza abitative infatti non è nuova. Già nel giugno del 2012 la Regione mise a disposizione un finanziamento per l'acquisto di 15 alloggi. All'istituzione locale il compito di dare massima pubblicità al bando, ma in quell'occasione agli uffici risanamento del Comune di Messina arrivarono meno di 10 proposte, tutte bocciate per carenze di requisiti riscontrate agli immobili ed il potenziale finanziamento andò perduto.